Ciao a tutti e ben ritrovati al podcast conclusivo di questa quarta stagione dei podcast di Libri di Montagna dedicata all'arrampicata americana, a Yosemite e all'incredibile storia di Camp 4 dagli anni 50 fino ad oggi. Un capitolo unico nella storia dell'alpinismo perché se da una parte, come proprio dei capitoli di storia dell'alpinismo, racconta di esperienze straordinarie che ci hanno fatto vedere proprio la progressione dell'abilità umana in parete, traghettandoci in dimensioni che prima non si pensava neanche che fosse possibile arrivare a fare determinate imprese, dall'altra è il solo e il primo caso in cui l'arrampicata e la ricerca personale procedono di pari passo e in cui la ricerca personale è proprio esplicita, consapevole e ricercata. E questo perché i climbers americani hanno voluto contribuire, hanno voluto partecipare a modo loro a quella che è stata la rivoluzione socio-culturale che è sbocciata, esplosa, germinata nei caldissimi anni 60 americani e di cui noi stiamo ancora vivendo gli epigone o che forse invece abbiamo adattato a quello che è la nostra realtà contemporanea. Allora, questo importantissimo percorso personale credo che si possa riassumere in tre punti che adesso andiamo a vedere. Allora, il primo è quello della libertà, che abbiamo visto che è stato così importante anche nell'evoluzione di Camp 4. Libertà di e libertà da. Libertà di essere chi si è, libertà di esprimersi come si vuole, libertà di vivere la propria vita, libertà di perseguire i propri obiettivi. Dall'altra, libertà dalle regole sociali che erano poi proposte slash imposte dalla borghesia. E perché è così importante liberarsi da queste regole? Perché queste regole puntano all'omologazione dell'individuo e non permettono una espressione, una libera espressione di sé. E se io non posso esprimermi come voglio, se non posso perseguire i miei obiettivi, allora non sono una persona felice. Ecco che questo concetto della ricerca di una vita felice è un concetto rivoluzionario, che va a toccare proprio il tasto più dolente nella concezione borghese. Ricordiamoci Lionel Terré con i suoi conquistatori dell'inutile, tutto il suo dramma personale, di lui appunto rampollo dell'alta borghesia che alla fine poi voleva fare l'alpinista e del terribile rapporto che ha avuto con suo padre per anni, che invece appunto lui era un magistrato, non mi ricordo più, un ingegnere, un medico, qualcosa del genere. Cioè il lavoro. Allora nella concezione borghese un uomo, una donna, deve lavorare per mantenersi, deve essere indipendente e in caso deve anche provvedere ad una famiglia. Quindi non si sta a fare troppa filosofia sul lavoro se ti piace o no, devi lavorare, punto e fine. Notare che il lavoro prende tanta parte delle nostre energie, tanta parte della nostra giornata, quindi avere un lavoro che ci piace è molto importante perché altrimenti viviamo una vita infelice. Ecco appunto che fino agli anni 60 non era mai stata sviscerata questa questione, non era mai stato veramente ricercato un modo per trovare una soluzione a questo connubio indissolubile. E già perché anche i climbers in fondo avevano tentato, lo sappiamo no? All'inizio era io vivo scalando i soldi, boh, chi se ne frega, vediamo. In realtà sulla lunga distanza si erano resi conto che questo non era sostenibile e quindi appunto si sono posti il problema. Come faccio a mantenermi senza però perdere ciò che mi dà gioia? Allora quando i climbers americani erano arrivati a porsi questa domanda i tempi erano anche maturati e si erano sviluppate delle nuove realtà. Sto pensando alle competizioni che erano arrivate anche in America, le competizioni di arrampicata e quindi si erano aperte tutte delle nuove figure professionali. Si poteva diventare istruttore, si poteva diventare qualcuno che apre una palestra di arrampicata, c'era più richiesta quindi potevo anche diventare un fabbricante di materiale, no? Fino a poi a diventare, ma questo arriverà negli anni 80, negli anni 90, un atleta professionista. Però ecco questo concetto che io potevo fare del lavoro, qualcosa di bello e quindi soprattutto la frase un po' abusata, vivere della propria passione, era molto importante, è importante, oggi noi non lo troviamo più così straordinario perché sappiamo che si può fare, però negli anni 60 era un concetto rivoluzionario e che comunque è stato un benchmark molto importante. Allora, non è che uno possa sempre fare un lavoro che ci piace da morire, lo sappiamo, però abbiamo anche imparato che nel caso uno non riesca a fare un lavoro che lo soddisfi in maniera così esaltante, comunque ha altre possibilità, il famoso dovere morale, no? Comunque di cercare delle passioni, ricordiamoci a Walter Bonatti che lavorava in fabbrica dal lunedì al sabato, ma non era mica il solo, anche Riccardo Cassin lavorava in fabbrica, anche Herman Bull, ci ne erano tantissimi, ma avevano comunque una passione, avevano trovato un modo per vivere una vita felice, fino a che addirittura poi dopo hanno fatto il salto e hanno lasciato un lavoro che non gli piaceva per vivere della propria passione. E qui infatti arriviamo al terzo punto, il secondo era quello di vivere una vita felice, arriviamo al terzo punto, quello della paura, un argomento che è stato molto analizzato, ricordiamoci Dean Potter, il Frisolo, Alex Honnold, no? Ricordiamoci Royal Robbins che ricercava proprio delle situazioni che gli mettevano paura per vedere che controllo aveva su di sé. Ecco allora, la paura, non dimentico di avervi detto che non fa parte dell'età adulta, vediamola che cosa si intende per paura, perché qui c'è stato un percorso parallelo non del tutto consapevole, però in parete come nella vita ci possiamo trovare in situazioni che generano ansia, la paura, come avevo già detto, è perdere il controllo, è scivolare. Allora, è molto importante, come diceva Messner, non scivolare nel panico. Allora, bisogna fermarsi, lui diceva, quando si scivola su un ghiacciaio, appunto, razionalizzare, pensare a quello che devo fare, tirare fuori la piccozza, piantarla nel ghiacciaio, la stessa cosa è quella che dobbiamo fare noi, nel momento in cui c'è una situazione che ci genera un po' di ansia, sedersi, tirare un bel respiro, smontare questa situazione in piccoli pezzi e trovare la soluzione a ciascuna parte e la paura svanisce. Come diceva Goethe, qualcuno attribuisce questa frase che sto per dirvi a Goethe, altri a bocchi lo sa, diceva così, un giorno la paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno. E quindi, appunto, ritorniamo a quello che dicevo io, che la paura non fa parte dell'età adulta. Però ecco, appunto, tutto questo lavoro sulla paura è perché, che cosa ci porta la paura? Noi quando è che abbiamo paura? Quando dobbiamo affrontare delle cose nuove, quando non sappiamo il rischio. E qua anche, torniamo ancora una volta sul concetto di rischio molto importante. Ricordiamoci che in parete, come nella vita, va bene buttarsi, va bene sperimentare cose nuove. Anzi, se non c'è un po' di rischio, se non c'è un piccolo salto, in realtà rimaniamo sempre fermi dove siamo. Ma mai farlo in maniera stupida, mai buttarsi allo sbaraglio. Sempre valutare, appunto, i rischi, le conseguenze. Ricordo che in italiano rischio e responsabilità sono retti dallo stesso verbo. Io mi assumo un rischio così come mi assumo una responsabilità. Quindi, ecco il terzo ed ultimo concetto così importante di questa ricerca personale. Quello della paura. Perché comunque uscire dalla gabbia borghese, che comunque è così sicura, no? Perché già ci fa vedere un modello di vita che in qualche modo funziona. Avventurarsi in nuovi campi fa paura. Però la grande ricompensa è che si vive una vita di felicità. Una vita di felicità perché ha un senso. E qui voglio riprendere le bellissime parole di Messner. Io ho una vita felice perché ho una vita con significato. E altrettanto ho una vita con significato perché è una vita felice. Messner poi nella sua grande saggezza aveva detto io non riesco a trovare un senso unico per tutta la mia vita. Piuttosto ho trovato senso e gioia progetto per progetto. Poi tra una frase e l'altra c'era un po' di grigio, ma ci sta. È doveroso. Non è che uno possa vivere sempre con la pila dura, c'è il conficcata nella schiena. Ci sono dei momenti in cui bisogna un po' sbattersi su un divano, recuperare energie e poi dedicarsi a qualcosa di nuovo. L'importante è cercare sempre un nuovo progetto, come ci insegna Benuzzi nel suo Fuga sul Kenyan. È quello che ci mantiene vivi, la fiamma. Questo è il nostro dovere morale da perseguire. Allora, adesso che abbiamo rivisto questi tre punti così importanti della ricerca personale, vorrei adesso però condividere con voi le parole di Mark Twight, perché quando avevo fatto il suo podcast, vi ricordate, avevo parlato del fatto che gli americani sono molto forti e lasciano il segno nell'arrampicata, mentre in alpinismo non sono a tutt'ogge ancora così forti, nel senso hanno dei bravi alpinisti, però non fanno niente di straordinario. E Mark Twight è l'unico tra le mie letture che si è espresso esplicitamente su questa tematica e la voglio condividere con voi. Vi posso già dare una guida di lettura. Allora, lui appunto fa vedere come gli americani siano inferiori agli europei, si rammarrica del fatto che gli americani hanno una grande potenzialità sulle cascate su ghiaccio, perché nelle Canadian Rockies appunto ci sono le cascate di ghiaccio più dure del mondo, eppure non richiamano poi così tanti suoi connazionali. E poi lui conclude attribuendo la scarsezza degli americani ad una questione di sponsorship, perché lui dice che gli sponsor vanno più sull'arrampicata e sul surf che non sull'alpinismo, rendendo così la vita più difficile agli alpinisti emergenti. Però noi qua, ormai forti della storia dell'alpinismo polacco-sloveno, insomma sappiamo che questa cosa è un po' una scusa, questa qua degli sponsor, perché allora a questo punto i polacchi e gli sloveni non sarebbero andati da nessuna parte, invece si sono mangiati i Malaya, Karakorum e quant'altro. Quindi qua dobbiamo prendere un po' le distanze dalle comunque parole molto interessanti di Mark Twight che adesso condivido con voi. Allora, eccoci qua. I nostri, tra virgolette, risultati significativi impallidiscono al confronto con quelli degli europei. Christophe Profit ha fatto in solitaria le tre grandi pareti nord delle Alpi in 24 ore, e poi ha ripetuto questa trilogia apocalittica in inverno. Jean-Marc Boivin combina lo sci estremo, paragliding e il parapendio con l'alpinismo per incatenare le pareti nord delle Guy Vert, le Duarte, le Courte e le Grandes Jorasses per farne una maratona di un giorno. Si è lanciato col suo parapendio lungo i 15 chilometri della Valle Blanche a luna del mattino. Fino al 1987, chi è andato più vicino a fare un 8000 in stile alpino sono stati Willie Unsold e Tom Hornbein, nella loro attraversata del West Ridge dell'Everest. Lo scorso settembre, Steve Hunch, qua mi inserisco io, lo conoscete? Io no, mai sentito. Quindi questa è una dimostrazione di come gli americani in effetti facciano fatica ad emergere. Ma torniamo a Mark Twight. Allora, lo scorso settembre, Steve Hunch, insieme a un britannico, hanno aperto una nuova via in stile alpino sullo Shisha Pangma, un altro punticino per gli americani. Di converso, Jean Troye e Erar Loretan, sono due svizzeri, e Loretan, qua mi inserisco di nuovo io, è stato il terzo a compiere tutta l'Himalayan Crown dopo Messner e Ku Kluxa. Comunque, torniamo a Twight. Di converso, Jean Troye e Erar Loretan hanno umiliato l'Everest salendo e scendendo la sua parete nord alta 3.000 metri, in 43 ore, senza ossigeno. Gli americani s'umigliano in Himalaya, a dispetto del loro vantaggio tecnico, economico e che siano dei brevi atleti. Risucchiano migliaia di dollari per l'ossigeno, per ingaggiare degli scerpa, per portare tutto quel peso che essi stessi non ce la fanno a gestire, poi le corde fisse, i campi di avvicinamento e materiale, fino ad una distanza ravvicinata alla cima. Ogni tanto poi qualcuno in vetta ci arriva. Ma qual è il problema? Gli alpinisti europei non sono dei supereroi, ma i loro successi malayani riflettono direttamente un'abilità immensa, allenamento, sponsor e una sorta di darwinismo sociale nella scelta dei compagni di squadra. Una squadra americana, invece, è composta raramente degli alpinisti migliori dello Stato. Gli europei sono abbastanza nazionalisti in fatto di vetti malayani, vogliono la loro bandiera sulla cima e così mandano i migliori del loro paese. E non sono nemmeno contrari a leader o eroi. Non tutti meritano le stesse opportunità. Sono i senza cuore, gli stronzi professionisti quelli che ce la fanno. Le spedizioni americane non vanno da nessuna parte perché la democrazia è inutile nell'ambiente ostile imalaiano. E qui mi inserisco di nuovo io sì. Questo è stato sempre, a detta non solo di Mark Twight, ma anche di tanti britannici, proprio un grave problema degli americani fin troppo democratici. Per cui non solo William Unsolde, ma anche Jim Whittaker, per esempio, in tutte le sue spedizioni che ha fatto, tutto veniva sempre molto discusso. E John Rose Kelly, che è un alpinista americano che io amo molto, ma appunto che non ha fatto abbastanza, è anche un suo libro che è scritto benissimo dal punto di vista dello stile, però non racconta abbastanza. Anche lui appunto sostiene la stessa cosa di Mark Twight. Troppa democrazia, invece bisogna essere un pochino più determinati, più rigidi. Ma continuiamo con le parole di Mark Twight. Quello che ci vuole per il successo in montagna è un leader con una truppa speciale e non un gruppo di amici con scarsa esperienza che discutono e poi mettono ai voti la quantità di gas che va depositata al campo 3, oppure se la via scelta è troppo pericolosa. L'alpinismo di per sé non è la cosa più importante per i membri di una squadra americana. I francesi fanno così bene perché loro sono disposti a rinunciare a tutto per l'alpinismo. E su questo di nuovo mi inserisco, credo che Mark Twight abbia ragione. Cioè se noi pensiamo a tutto quello, a tante storie degli alpinisti europei, da Herman Bull che veniva in bicicletta fino a Valmasino per scalare una cosa e poi tornava indietro, è veramente il primo che mi viene in mente, ma ce ne sono tantissimi. In questo gli americani effettivamente per quello che riguarda l'alpinismo non sono fino ad oggi disposti a così tanto come invece lo sono stati gli europei. Ma concludiamo ancora con tre frasi di Mark Twight. Diciamocelo, prosegue. Gli americani hanno un complesso di inferiorità quando si tratta di alpinismo himalaiano. Ci accontentiamo di cime più basse, ci giustifichiamo dicendo che sono tecnicamente più difficili, oppure facciamo delle spedizioni classiche per vie già ben rodate. I Canadian Rockies sono l'unica arena di questo continente dove possiamo allenarci per competere a livello internazionale. Ma ogni volta che ci vado vedo raramente dei connazionali. Persino in inverno. E questo è un peccato, perché le cascate di ghiaccio sono la disciplina in cui siamo più forti degli europei. Perché le cascate più dure al mondo sono nel Nord America. E noi abbiamo vent'anni di storia di piccozze, recurve, ramponi e ghiaccio verticale. Il sistema ha reso l'alpinismo himalaiano uno sforzo troppo grande per i giovani aspiranti alpinisti. Troppo difficile trovare sponsor. Mentre la rampicata e il surf sono più attraenti. Qua si conclude appunto questo estratto che ho fatto, che vi ho tradotto, dell'articolo di Mark Twight sul perché secondo lui gli americani sono inferiori rispetto agli europei. Ma ho già analizzato prima, soprattutto l'ultima frase, quella che riguarda lo sponsorship. No, che non è vero. Questa è un po' una scusa. Ma arriviamo adesso alla conclusione di questo podcast conclusivo. L'importanza di questo capitolo così particolare della storia dell'alpinismo risiede anche nel fatto che non resta isolato, rinchiuso su se stesso, piace molto, dilaga, arriva anche in Europa. Non viene assimilato, non viene condiviso da tutti. Per esempio una categoria che rifiuta tassativamente l'introspezione, ve l'avevo già detto quando parlavamo di Nimesburgia, sono gli anglosassoni. Per cui Libro di Montagna non farà mai una stagione di podcast dedicata all'alpinismo anglosassone. Boh, mai direi mai, ma in questo momento mi sembra di no. Proprio perché i britannici sono degli alpinisti fortissimi, fanno delle cose incredibili, ma non sono minimamente introspettivi. Per cui, per quelli che sono appunto i parametri di scelta di Libro di Montagna, è molto difficile fare dei podcast interessanti, ma vediamo, vediamo. Comunque, per quello che riguarda appunto, mi ci dicevo, l'attrazione europea per questo che è la combinazione di montagna, di arrampicata, di alpinismo e ricerca di sé, il primo grandissimo che ha fatto questo lavoro, prima ancora degli americani, prima che arrivassero gli americani, è stato Walter Bonatti. È l'unico che tra l'altro condivide delle riflessioni veramente di spessore e l'ha fatto fin da subito e a tutt'oggi credo che in Italia non ci sia nessuno che sia al suo livello per quello che riguarda anche proprio la riflessione personale. L'altro grandissimo è Reinhold Messner, non posso dire che è un italiano perché appunto lui ha più riprese, soprattutto nelle interviste tedesche, ribadisce che lui di italiano ha solo la cittadinanza, ma nulla più, ma Messner dice delle cose molto sagge e molto intelligenti, per cui va bene così. I francesi avevano cominciato, ricordiamoci appunto i conquistatori delle inutili con Lionel Terre, ma appunto adesso ultimamente è un trend che sta emergendo, perché si sta appunto vedendo il grande potenziale che ha la letteratura di montagna se è vista in questa chiave. Allora, concludendo, questi alpinisti alla ricerca di sé, esplicitamente o implicitamente, sono sempre stati bollati come persone dal carattere difficile? Sì, certo. Certo che sono delle persone che hanno un carattere difficile, perché essere alla ricerca del proprio spazio all'interno della società, ricercare una vita di felicità e di equilibrio, e qui si aprirà un nuovo capitolo, di equilibrio relazionale, è molto difficile. Era quello che diceva Glovac, era quello che diceva Tommy Caldwell, dove tiro la riga? Dov'è il limite del me time? E quando invece se ho una compagna o un compagno dei figli? E dove invece è giusto che adesso io dedichi il mio tempo anche agli altri? È una domanda molto importante, questo è il nuovo capitolo della ricerca, l'equilibrio tra se stesso e gli altri. È comunque un percorso difficile e come tutti i percorsi di ricerca prevede dei fallimenti. Quello che io trovo affascinante e paradossale è che per fare montagna bisogna fare le cose insieme agli altri, anche solo scalare, sì si può fare il frisù d'accordo, si possono fare anche le solitarie, però fondamentalmente è una cosa da fare insieme a qualcun altro e tutti questi grandi alpinisti raccontano di come sia difficile per loro trovare un partner, un partner adatto. Magari si trova un partner per una impresa, poi però dopo le cose vanno a decadere. Comunque quello che resta, che accomuna tutti, tutti gli alpinisti è appunto questo bisogno di libertà da delle regole imposte da una società che non vuole prevedere la felicità della persona o perlomeno che non la vuole mettere come un valore prioritario. E questa ricerca, esplicita o implicita, porta quindi comunque a delle difficoltà a livello relazionale, ma è molto importante. E nella storia dell'alpinismo, quando i libri sono fenomenali, noi possiamo trovare degli spunti di riflessione grandiosi. Concludo qui questo podcast allora conclusivo sulla quarta stagione di podcast di Libri di Montagna. Io vi ringrazio ancora tantissimo per tutti gli ascolti che regalate a Libri di Montagna e niente, vi aspetto ai prossimi podcast di Libri di Montagna.